Continua l'allerta criminalità. L'ondata di furti, spaccate ed aggressioni non sembra placarsi in questi giorni, anzi in città come in provincia. Attiene un malvivente armato ha tentato di rapinare una tabaccheria minacciando la commerciante poco lontana dai due figli poco più che neonati. A due ville i ladri hanno razziato in diverse abitazioni al confine con Villa Verla, rovistando nelle case monili e contanti e spaventando i residenti. Furti avvenuti anche in città in Contradorode dove i ladri si sono introdotti in tre appartamenti mentre nella zona del quadrilatero i proprietari di tre auto in sosta hanno trovato saccheggiate le vetture e i finestrini infranti. Lungo Corsa San Felice e Fortunato tre locali hanno subito la spaccata delle loro vetrine e l'intrusione dei ladri. Per tutti non è la prima volta nell'ultimo anno. Adesso vedremo un attimo le immagini, adesso con calma perché bisogna stare lì a vedere un attimo anche l'orario e tutto, però vedremo insomma cosa riusciamo a ricavare. Non è la prima volta? Non è la prima volta, terza volta in due annetti. Più che altro è sempre più che i danni economici, cioè più che i danni economici, venire qui, stare qui e controllare, sistemare tutto dopo, quello è il problema. Avevo le monete in cassa e hanno trovato quelle monete e tre cellulari mi hanno rubato, altra volta. Invece questa volta no, solo hanno spaccato il vetro. Hanno provato di entrare perché un antisfondamento non riuscivano a entrare. Indignati non solo gli esercenti ma anche i semplici passanti colpiti dai danneggiamenti. Non c'è più la città, bie. Guarda che io sono nato in piazza Matteotti tanti anni fa, non avevamo neanche l'asservatura sulla porta. Ti pensi non aveva l'asservatura sulla porta e si dormiva con la porta aperta. Per difendersi alcuni commercianti del centro storico adottano misure straordinarie e invocano un migliore coordinamento con le forze dell'ordine. Io avrei piacere che ci fosse un incontro tra i commercianti e tutti i rappresentanti e forze dell'ordine, questura, prefetto, vigili urbani e quant'altro, perché assolutamente il problema va affrontato con molta serietà. Non si può andare avanti in questo modo. E soprattutto ci vuole un impegno serio, approfondito e determinato di tutte le forze dell'ordine. Primo. Secondo, ad esempio, io chiudo prima e sto bene attento ad andare in macchina perché mi faccio accompagnare dal mio dipendente.